Ciao a tutti, eccoci ancora qua per un altro video. Oggi sono particolarmente ispirato da un'applicazione che abbiamo fatto e stiamo facendo per un raffreddamento industriale. Abbiamo studiato un'applicazione molto interessante legata ad un impiego per impianti di trafilatura dell'acciaio. È un impianto dove viene richiesto un raffreddamento con dell'acqua a una temperatura di 25-28 gradi centigradi. Ebbene è una temperatura particolare, una temperatura particolare perché sicuramente è abbastanza bassa da non poter essere soddisfatta da una semplice torre evaporativa, ma allo stesso tempo è sufficientemente alta per faticare ad essere giustificata con un gruppo frigorifero. Perché stiamo parlando di una potenza, peraltro di raffreddamento, di diverse centinaia di kilowatt termici. Di conseguenza, se dovessimo fare un raffreddamento del genere con un gruppo frigorifero, questo comporta un investimento importante a livello proprio di costo, di primo investimento, ma soprattutto parliamo di una potenza elettrica assorbita molto elevata. Soprattutto quando evidentemente abbiamo quella stagionalità per cui serve il gruppo frigorifero. Con una torre evaporativa, viceversa, avremmo una temperatura che non è quella che soddisfa pienamente il processo durante soprattutto la stagione calda ed avremmo un consumo energetico molto basso. Di contro, siccome si tratta di un raffreddamento diretto del prodotto, con la torre evaporativa ci ritroveremmo con un'acqua trattata con anti-alghe, con anti-batterici, anti-calcare che non sono compatibili col prodotto stesso. Di conseguenza si pone un dubbio su che tipo di macchina utilizzare. La macchina ideale sarebbe utilizzare una macchina con circuito chiuso. Dovremmo utilizzare una torre abbinata a uno scambiatore di calore e questo ci porta ad avere ancora di più una temperatura che non rispetta quanto richiesto nel processo. La soluzione che abbiamo trovato è quella di impiegare i famosi raffreddatori a circuito chiuso di tipo adiabatico. In pratica si tratta di utilizzare dei dry cooler con il potenziamento adiabatico. Durante la stagione estiva viene nebulizzata dell'acqua nell'aria che viene aspirata dai ventilatori del dry cooler, creando una sorta di effetto torre evaporativa. Quindi la temperatura di riferimento è la temperatura del bulbo umido perché abbiamo un minimo di evaporazione dell'acqua, quindi un minimo di consumo di acqua. Questo solamente durante le ore più calde della giornata, nelle stagioni più calde. Ci consente di ottenere l'acqua ai famosi 25-28 gradi per tutto l'anno, tutto l'arco dell'anno, anche in estate, senza per questo avere un'acqua a circuito aperto, quindi a contatto con l'aria. Il nostro è un sistema di quelli che consente di utilizzare pochissima acqua, ne consuma veramente poca solamente nei mesi più caldi, non va a sporcare e intasare lo scambiatore allettato. Non voglio insistere su questi argomenti, voglio semplicemente portare alla vostra attenzione l'efficienza di questi tipi di sistemi che consentono di utilizzare dell'acqua in circuito chiuso per andare a fare dei raffreddamenti a temperature che sono intermedie tra quelle di una torre evaporativa e quelle di un gruppo frigorifero utilizzando ed avendo i vantaggi di un circuito chiuso. Evidentemente questo tipo di soluzione lo abbiamo implementato come da nostra abitudine quando andiamo a progettare questo tipo di impianti con sistemi di inverter sui ventilatori. Questo perché? Perché durante la stagione invernale, durante la mezza stagione, diciamo così la stagione primaverile e autunnale, ottenere l'acqua a 25 gradi con le temperature ambienti delle nostre latitudini è molto semplice, quindi è inutile far girare i ventilatori a piena potenza, di conseguenza inverter e risparmio sull'energia. Diciamo che da una proiezione che abbiamo fatto il consumo di acqua effettivamente si limita a un paio di mesi all'anno ed onestamente molto probabilmente per le ore più calde della giornata. Stiamo parlando di un'azienda che lavora su tre turni quindi anche durante le ore notturne si ha un minore utilizzo di acqua se non addirittura lo si potrà azzerare e probabilmente si potrà andare in parzializzazione sulla velocità dei ventilatori anche perché poi i carichi sono variabili. Evidentemente anche in questo caso abbiamo implementato un sistema di monitoraggio da remoto che ovviamente serve per verificare l'effettivo consumo dell'acqua, l'effettivo consumo energetico dei ventilatori, questo per ottimizzare i futuri progetti di questa azienda che deve fare ulteriori investimenti in questo ambito. Di conseguenza viene diciamo così a tutto vantaggio nostro per la fase di progettazione e per la proposta che possiamo fare e del cliente perché si renderà effettivamente conto di quali sono le sue esigenze dal punto di vista termico ed energetico senza contare il fatto che riusciamo a fare anche una valutazione del bilancio energetico e quindi dei risparmi in kilowatt che riusciamo ad apportare con questo sistema. Cosa ne pensate? Un discorso interessante? Un saluto a tutti e stay safe! Ciao!